E dopo la pausa di Ferragosto siamo tornati qui con Pokémon Dragonstone Che bello! Ho allenato la mia squadra giusto perché tanto mi capita qualcosa di brutto dopo Quindi abbiamo Gina al 15, Maetiena al 20, 17 al 17 Badum! La Troca al 15, Avon al 17 e Pg8 al 20 E andiamo a farci ammazzare di botte Ah 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 ti abbaglierò con i miei prodigi! Ciao! Belli i tuoi prodigi Ma sono tutti in fila, fammi capire All'ombra dell'ultimo sole si era assopito un pescatore Che aveva un solco lungo il viso Come una specie di questo gioco fa schifo Sono proprio curioso di conoscere il capo a lestra di questa città Ma io l'ho già battuto No! Vuoi vedere che andando a parlarci di nuovo sparisce? Non posso credere di aver perso Ok... Adesso dovrebbe essere sparito, spero Infatti è sparito Ah ah! Adoro far vedere a tutti quanto sono deliziosi i miei Pokémon E comunque si scrive Siano Ma un condivisore di esperienza qui... Sì va bene, Dodder 19, bravo Compra, ci prendiamo Super Pozionia Megaballa E poi un Revitari... Non ho abbastanza soldi Merdo Oddio questo gioco Ora Ekans Poi Metapod Poi Monkey Pokémon adatti a un bullo Togliti Alla fine questo episodio sarà Io che vado avanti nel percorso Vengo danneggiato E poi torno indietro Perché non ho abbastanza soldi Per comprarmi le cose Ho già capito Goldak Che città di merda Sinceramente Allora Qui La città instancabile Ah Scusi? Alberto Che vuoi? I punti terribativi a inizio frase che odio Non credo sia il caso Hai ragione Capopalestra sembra essere un tipo tosto Meglio ritirarci E tu chi sei? Il capo ci aveva avvisato Di un moccioso Che voleva metterci bastoni tra le ruote Sei per caso tu? No Allora sparisci Sì In questo caso Sarà meglio eliminarti subito Questo qua praticamente È lo script di Lino E il suo zio riciclato direttamente Da Rubino e Zafri Vai così Maledizione ACP No No ACP FICCHI Bravissimo Mi è piaciuta E poi ci sono Oibio Per Dindirindaina Non lo so Negli affari del T-Man Capito Dai scappiamo Ragazzi non lo dico per il tuo bene Stacci lontano Questo ciò qua è magico Ok Qualcosa di invisibile mi blocca il cammino E non è un Kecleon Mannaggia Questo qua mi dovrebbe dare spaccarocci Oh oh E questo è il negozio bici Sì Grazie Sì Aspetta Cosa sono quei pixel marroni Che c'è ogni tanto Dalla parte del cappello Oh Oh no La palestra di Walter Con tutti I allenatori Alla fine Game design signori Sono anni che seguo gli insegnamenti di Alberto Non sarà facile battermi Minchia i Pokémon al 24 Però se è una palestra d'erba Dovrei riuscirci Cosa non vela Perché sicuramente mi farà il culo In qualche modo Basta con vela in polvere Basta Questa non è difficoltà Questa è mettiamo Pokémon potenti a caso in giro Non ci sono altre specie Ma aspetta Lì c'è un centro Pokémon E c'è anche qui Però sto guardando Vabbè visto che dobbiamo battere prima la palestra Che se no Non si può proseguire Andiamo avanti Dai vela in polvere Oh Striglio Ha tenuto gli attacchi di Voltorb Buon dio Difficilissime Queste sfide Mi sto divertendo Però Penso sia meglio mettere davanti i PG8 Mi presento Sono Alberto Sin da piccolo ho avuto una passione per i Pokémon Tipo erba Anche se guardando la palestra Non sembra vero Le vircole Ho voluto la palestra così Perché adoro sorprendere sempre i miei sfidanti Basta parlare No in realtà è che non avevo voglia Di mettere tileset differenti O di mappare qualcosa Dire la verità Bello Cos'è a tutti gli starter erba Gloom Facile mi dicono C'è allora Allora aspetta Ah i tre starter Ok Poi Ah Un Ivisaur Un Gloom E un altro Trico Io mi sarei aspettato i tre starter Di tipo erba delle tre generazioni Più le loro evoluzioni Perché Gloom Ho messa su uno spazio In cui devo andare E quindi devo parlarci per forza Ciao Alp Punto Ho fatto una fatica immane Per raggiungerti sai Comunque sono venuto qui Per consegnarti tutte le macchine Tecniche che ancora non possiedi Bello Per davvero fuori di testa Ho in mente un'idea Che probabilmente non vi piacerà molto Ma Mi Questo qui Ok Dicevo Ho in mente un'idea che a molti non piacerà Però sono costato Visto che gioco una merda Allora Per qualche stanza ragione Il trucco delle caramele L'area dell'esperienza maggiore Non funziona su questo gioco Per non so quale motivo Quindi Nel prossimo episodio Maggeggioro un attimino Con la ROM Per fare un piccolissimo script Che mi aiuterà nell'avventura E Poi Potremo proseguire Solo che adesso Non voglio di farlo Anche se sono Sette righe da fare Sì Quindi Vi do appuntamento Sempre Lunedì prossimo Con Con questa bellezza Mi raccomando Passate anche dal canale Telegram In descrizione qui sotto Dalla pagina Facebook Sempre qua sotto Dal gruppo Telegram E dal secondo canale Comunque tutto in descrizione O a fine video E Voglio morire